L'Italia è un paese che ha perso la Seconda Guerra Mondiale in modo evidente, cioè l'armistizio è stata una vera e propria resa. Quando Castellano è andato in Portogallo, insomma, era chiarissimo che eravamo pronti a tutto. Dopodiché, con la solita nostra arte da paese un po' di pulcinella, siamo riusciti a raccontarcela come se ci fosse stata la parentesi del fascismo. Molicroce ebbe un ruolo importantissimo nel cercare di restituire una verginità soprattutto a quelli come lui, che invece c'erano stati dentro fino al collo. Ma sostanzialmente in Assemblea Costituente, dove sono entrati un mucchio di fascisti travestiti e un mucchio soprattutto di conniventi rispetto al fascismo, viene raccontata la storia che in fondo, tutto sommato, a parte la parentesi del fascismo, l'Italia aveva vinto la guerra. L'Italia era stata sostanzialmente con gli alleati, perché effettivamente dal 1943 al 1945 siamo passati dall'altra parte, ma non bisogna essere dei fenomeni per capire che quando le cose vanno come sono andate non puoi immaginare neanche col binocolo di poter essere davvero accolti tra i vincitori del conflitto. E quindi, mentre già con Ialta, e siamo nel 1943 fondamentalmente, l'accordo era chiarissimo, che la linea, diciamo, la cortina di ferro passava per il Mar Adriatico e quindi lasciava sostanzialmente l'Italia come punta estrema dell'Occidente capitalistico e di lì non ci si poteva muovere. E infatti poi possiamo leggere tantissimo di quello che è successo all'interno della stessa democrazia cristiana. La marginalizzazione di Dossetti, che era stato addirittura vice segretario della democrazia cristiana ed era stato sicuramente la voce più autorevole in Assemblea Costituente. Cioè il mondo, diciamo, cattolico-sociale e il compromesso costituzionale, quello che noi chiamiamo la Costituzione più bella del mondo, no? Anche se è tanto disapplicata, ma è che comunque è stato un avanzatissimo modello, diciamo, di capitalismo sociale, chiamiamolo come volete, che nasce sostanzialmente dall'accordo fra Togliatti e Dossetti. Un accordo che passa da un lato per la svolta di Salerno sul fronte comunista, no? E dall'altra sul fatto che il movimento cattolico-sociale era comunque un movimento estremamente avanzato ed estremamente progressivo. E ne esce una struttura costituzionale, soprattutto una costituzione economica, articolo 41 e seguente, molto, molto importante e molto, molto avanzata. In quel momento Dossetti cade... Perché cade Dossetti? Perché De Gasperi va negli Stati Uniti, fa l'accordo con gli Stati Uniti e Dossetti viene sostanzialmente scaricato. Quindi quella è stata già la prima, come dire, operazione... Poi si rinchiude in convento, sapete benissimo com'è andata. Poi era un signore, voglio dire, di grande pazienza, di grande fede, eccetera. Quindi non fa un can-can, diciamo, a seguito di questa cosa, ma è evidentissimo che lì c'è stato proprio un cambiamento di posizionamento della politica italiana. In cui De Gasperi, con grande realismo, va negli Stati Uniti e prende atto. Questi gli dicono, guarda che voi la guerra l'avete persa. Cioè, toglietevi dalla testa adesso di fare quelli che siete molto bravi a fare le Costituzioni. Non funziona così. Ma vi diamo i soldi del piano Marshall, vi diamo una mano a crescere, ma non pensate neanche lontanamente di poter essere davvero autonomi. Questo era l'accordo iniziale nel DNA del nostro paese. Quindi il nostro paese è un paese che non ha avuto in realtà delle vere e proprie scelte. Grazie. 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 Grazie.